Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale, da segnalare solamente in A1 la chiusura delle corsie di sinistra a causa di lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna. In FIPILI si ricorda che sono stati prorogati fino al 30 settembre i lavori con scambio di carreggiata tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna, scambio di carreggiata a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la A1 Firenze in Pruneta, cantieri di Firenze in via Bolognese a causa di lavori alla rete di distribuzione del gas fino al 12 settembre, restringimento di carreggiata con senso unico alternato nel tratto compreso tra i civici 236 e 269. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!